Personalizzare la lista immobili. Clicca sull'app Lista immobili, sulla barra di modifica e sull'icona rotellina. Seleziona Impostazioni. Puoi aggiungere un pannello di ricerca degli immobili oppure eliminarlo. Puoi visualizzare solamente gli immobili in offerta. Puoi mettere un immobile in offerta da informazioni principali della gestione immobile. Puoi mostrare prima le offerte. In coda saranno presenti gli altri immobili. Puoi filtrare l'app per la tipologia di immobile e per tipo di contratto. Puoi selezionare il numero di immobili visibili per pagina.